Di Gaetano ho tanti ricordi, perché oltre a essere stato il vice allenatore quando ho giocato io per tre anni, poi è stato anche successivamente colui che mi ha chiesto di fare il team manager alla Viola negli anni in cui la proprietà era di Santo Versace, quindi io ho smesi di giocare per accettare questa proposta, quindi penso che lui nei miei confronti avesse molta stima come io l'avevo anche nei suoi confronti, un dolore incredibile, anche se si sapeva.